Andrew Tate è stato accusato di stupro, traffico di esseri umani e di aver creato un'associazione criminale. Insieme al famoso e controverso influencer britannico-statunitense, noto per le sue opinioni misogine, sono finiti sotto accusa il fratello Tristan e altre due cittadine rumene. Secondo gli inquirenti sono sette le donne vittime di sfruttamento. Tate respinge le accuse, intanto i pubblici ministeri hanno ordinato il sequestro dei suoi beni, tra cui veicoli di lusso, orologi e criptovalute.